Benvenuto al Cinema Zero, a Pietro Castellitto. Da dove partire? Sarebbero davvero tanti gli spunti che ci dà questo tuo lavoro che è decisamente diverso nel panorama dei film che siamo normalmente abituati a vedere. Forse partirei proprio dal titolo, Pietro, Enea, Enea-Pietro, un po' questa dicotomia anche per capire dove sono i confini tra Pietro ed Enea, quanto di Pietro c'è in Enea e quanto di Enea c'è in Pietro? Ma io penso che di Pietro in Enea e di Enea in Pietro ci sia tutto e niente, perché poi c'è una parte di me in ogni personaggio del film, poi da quando cominciai a scrivere sceneggiature mi è sempre venuto istintivo e raccontare delle storie che mettessero al centro la vita e quindi poi mi ritrovavo in mano con delle sceneggiature che inevitabilmente mischiavano i generi e che inevitabilmente avevano parti di me ovunque. perché poi anche questo film, come Predatori, sono film nati in solitaria, tra virgolette, insomma ho scritto quello che ho messo in scena, quello che mi serviva per mettere in scena e quello che sentivo di dover mettere in scena, quindi il punto di vista è il mio. Enea è un po' una sorta di sogno traslato. Ci sono alcune cose della mia gioventù, altre che avrei voluto vivere, altre che non c'entrano nulla. E' così, come in tutti i film. Il confine c'è, ma uno poi se lo dimentica. Enea ha una voglia di vivere incredibile, ha una fame di vita, vuole sentirsi vivo e qualche volta si ha quasi l'impressione che come non abbia un piano, nel senso viva la vita, appunto inseguendo questa emozione e questa voglia di essere continuamente vivo. Tu che hai dovuto raccontarlo, avevi invece uno schema ben definito, avevi già in testa il film prima ancora di girarlo in maniera completa oppure ti sei anche tu fatto un po' guidare e il film è nato un po' facendolo? Ma mentre lo scrivevo, come mi capita sempre, capisco anche un po' come vorrò girarlo. Quasi che la scrittura mi ispira a alcune idee di messa in scena. e poi provo sempre a fare una regia che sia quella più giusta per amplificare il simbolismo dei personaggi. Però inevitabilmente ci sta sempre un margine in un film su cui non hai potere, che ti sfugge sempre. Quel margine è anche molto sano non tentare nemmeno di dominarlo perché ti dà la possibilità di prendere strade o di scoprire sentieri che se ti fossi affidato soltanto al tuo pensiero razionale non ci saresti arrivato. E invece spesso il set con i suoi problemi quotidiani ti costringe anche a volte a delle sintesi e ti fa venire in mente idee che senza quei problemi non avresti avuto. Quando scrivi e in generale anche se vuoi facendo qualche passo indietro quando hai iniziato a fare questo lavoro che riferimenti avevi? Quali erano i tuoi maestri? Comunque chi sono stati gli autori che ti hanno ispirato? Io ero molto affascinato dai danesi in special modo Lars von Trier e alcuni film di Wittenberg ero e sono un ammiratore di Scorsese di Woody Allen soprattutto un 15 anni in cui ha fatto veramente un capolavoro all'anno però credo anche che sia un mestiere muscolare quindi poi le vette non le tocca sempre uno dipende anche dal periodo e dal benessere proprio psico-fisico e quindi negli ultimi anni devo dire che forse il regista che più di tutti mi ha impressionato è Paul Thomas Anderson Senti, tornando anche a questo mosaico di personaggi che ci sono nel film Enea è ovviamente l'indubbio protagonista ma forse ci sono all'interno del racconto tutta una serie di personaggi che quasi viene da pensare meriterebbero ciascuno un film in qualche modo tanti punti di vista e tanti modi di mi viene da dire di approcciarsi alla vita come hai costruito questo mosaico? Come hai scelto i tuoi attori? Tra l'altro ovviamente nel cast insomma c'è anche tuo padre c'è anche tuo fratello piccolo e quindi com'è stato anche lavorare con loro? Gli attori in Italia erano un po' nostri per anni si prendevano sempre gli stessi attori seppur molto bravi però per fare sempre gli stessi personaggi e questo poi inevitabilmente fa sì che alcuni attori per quanto bravi però il personaggio un po' te lo mangiano e quindi sin dal primo film mi è venuto naturale trovare attori, facce che 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 mi aiutassero a valorizzare le cose che avevo scritto quindi e poi mi sono reso conto che è un mestiere molto più legato alla personalità di quanto si creda cioè è molto importante la personalità nel mestiere della recitazione quindi quando incontri un attore è quasi più importante il caffè che ti prendi prima del provino che non il provino quindi quando lo guardi in faccia e provi a conoscerlo perché un attore deve sentirsi compreso se si sente compreso a quel punto si 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 sentirà protetto e avrà il coraggio di essere fragile quindi credo che che sia molto importante la bussola che mi ha orientato nello scegliere gli attori è stata questa appunto io ho avuto la fortuna di incontrare persone che sono abituate a vivere in maniera sincera che sono abituate a filtrare l'esperienza della vita in maniera personale e non sono non recitano il ruolo che quel mestiere lì gli impone quindi non non si fanno abitare da una rabbia non loro non dicono quello che un attore dovrebbe dire nel 2023 ma erano persone con una loro vita alle spalle che poi inevitabilmente è ritornata anche nel film per quanto riguardava Cesare ah beh lì è stato Cesare è mio fratello è il ragazzo che fa mio fratello nel film è mio fratello nella vita ed è uno che ed è un ragazzo incredibilmente poetico e quindi mi sembrava abbastanza impossibile trovare un suo simile e per quanto riguardava papà io inizialmente non volevo perché per tutta una serie di fattori potete immaginare ero intimorito quasi mi sentivo a disagio stare con mio padre in un contesto che può essere contro natura dove il figlio c'è più potere del padre però poi ci sta tra l'altro ci sta anche una scena quella ambientata alla vigilia di Natale dove ci stanno tutti i miei parenti veri cioè quelli sono i tuoi parenti anche lo svolgimento della scena è verosimile sì 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 Adamo Dionisi quello che fa quello è mio zio Chiara non schese no scherzo no però quelli sono i miei parenti veri quindi il mio padre mi ha detto tu tu prendi i miei cugini non mi prendi a me no no però a parte gli scherzi era un appuntamento insomma dal quale non potevo più scappare mi sono presto reso conto che nessuno come mio padre sarebbe stato in grado di intercettare alcune sfaccettature alcune sfumature del personaggio e quindi ho capito che era è raggiunta l'ora tra l'altro sei andato a cercare appunto degli attori anche in mondi l'hai citato a poca anzi completamente altri insomma che nel mondo della musica ti sei inventato di fatto un coprotagonista che non aveva appunto esperienza lì come come è stato questo incontro è Giorgio io lo conoscevo Giorgio Quarzugueras l'attore che interpreta Valentino è anche un cantante che in arte si chiama Tutti i fenomeni me l'ha fatto scoprire mia sorella anni fa e durante la durante la fase di scrittura mentre scrivo il film me lo ascoltavo quel periodo lì e a un certo punto ho voluto vedermi qualche sua intervista e successivamente ho voluto anche incontrarlo e da quando poi ho cominciato a immaginarmelo nella storia anche tutti gli altri personaggi hanno cominciato a prendere forma come se lui fosse proprio la l'amalgama proprio la ha delle caratteristiche con questa voce sua dente con questo romanticismo con questa dolce antipatia che sembra uscito da un libro di Bertistonellis non sembra italiano il cinema italiano non ci stavano personaggi simili e quindi e quindi appunto dopo quel pranzo ho detto vabbè per me è lui seguirono anche De Provini mi resi conto che aveva anche delle che poteva farlo c'è uno sguardo poi secondo me unico che da il perfetto contraltare di Ené in moltissime scene è un ragazzo speciale Giorgio c'è anche un altro diciamo coprotagonista presente diciamo lungo tutto il film che è la musica su cui hai fatto un lavoro molto molto bello lì come come hai lavorato perché è proprio un legante da un certo punto di vista ma anche un aiuto per alcuni passaggi alcuni snodi snodi del film ho visto che il film si chiude con un con un ringraziamento per Renato Zero immagino insomma per beh perché Renato a parte che è la colonna sonora del film praticamente una canzone che ritorna quattro volte cantata non so quante volte è successo però poi ci ha dato anche la possibilità cosa rarissima di di storpiare la canzone quando Valentino rivela a sua madre il suo segreto gli racconta la sua vita segreta usa le note appunto di spiaggia e cambia le parole e questa è una cosa che in pochi ci avrebbero permesso e poi Renato Zero è un vero rivoluzionario per me è stato tutte le altre canzoni del film sia Bandiera Gialla che Maledetta Primavera hanno in comune con spiaggia il sentimento della nostalgia perché sono canzoni che ascoltavo da piccolo le facevano ascoltare tutta la mia generazione prova nostalgia quando ascoltano quando ascoltiamo certi cantatori italiani perché ce li facciano sentire i nostri genitori e poi anche perché poi insomma la musica italiana è degenerata incredibilmente perché non sono musica diciamo della tua generazione no 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 hai 30 anni chiediamo a voi come sempre qualche impressione qualche commento qualche domanda per Pietro adesso è povero è esausto perché ha già fatto tre tappe oggi ma hanno pure rubato la valigia in treno si ma hanno rubato la valigia ma non vado la valigia è così è sì no sto bastardo adesso diffondiamo su grande schermo l'identikit poi ci dai qualche dritta qualcosa era entrato a Milano però poi ha visto ha visto che ero distratto perché stavo al telefono e a sempre con i cuffi sì sì eravamo in tre in carrozza c'era il signor accanto che quando sono arrivato a Mestre me ne sono accorto stavo ancora là e l'altro che non c'era il capotreno che penso gli scelgano a Dati mi fa mi fa no no ma il ragazzo non è deve scendere a Trieste perché controllava sull'iPad quindi non penso sia lui tu guardi ma poteva pure scendere a Londra ma non ci sta più quindi è sceso prima non c'è lui non c'è la valigia non è che so anzi è una conferma se doveva scendere a Trieste non c'è sta domande? dirigere e recitare qual è la difficoltà più grande? che cosa piacerebbe sapere qualcosa insomma di questo? ma il ma in questo film è stato particolarmente stancante perché c'erano c'erano scene molto complicate quindi spesso e volentieri mi sarebbe piaciuto stare soltanto dietro la macchina da presa e avere e avere più tempo non che levassi il tempo perché tanto per la fine su quello sono ossessivo cioè finché una cosa non 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 mi viene bene non è che vado avanti però avrei raggiunto certi avrei raggiunto il mio obiettivo prima nell'arco della giornata non necessariamente a tarda notte i tempi ogni tanto si allungavano per questo motivo qua però altre volte invece è quasi una comodità perché se se stai dentro la scena è come se dal di dentro riesci più velocemente a a imporre la scena il clima che vorresti che la scena abbia dipende secondo me una piccola protagonista è Roma c'è nel senso posso immaginare perché ma perché Roma beh è una storia che non mi sei mai potuto immaginare da ambientare altrove è sempre stata Roma è una storia che devo a Roma cioè certe dinamiche di Roma Nord una certa voglia di vivere romano un certo cinismo una certa ironia e allo stesso tempo anche il romantico lo slancio romantico di questo ragazzo che che comunque sia lotta anche per capire gli altri e per capire la vita è uno che poi vuole mostrare è uno disposto e per me è una persona che dubita costantemente poi è uno che è camaleontico che potrebbe ascoltare chiunque che potrebbe andare d'accordo con chiunque dal barbone per strada al politico alla nonna al narcotrafficante cioè una persona assolutamente vitale e post ideologica e mi piaceva appunto che questa storia nascesse che fosse inizialmente molto intima entriamo all'improvviso in questa famiglia in un dopo scena di questa famiglia e poi lentamente diventasse universale fino alla morte finale di Valentino che è la morte per Antonomasia l'11 settembre e questa parabola qua che va dall'intimità all'universalità era l'essenza del film e Roma Nord tornando a Roma è è una metafora calzante di di questo aspetto è un posto dove dove i come dire è un posto dove i valori basilari della vita non sono snobbati e quindi scontrandosi tra loro creano poi leggende metropolitane creano situazioni di vita estrema e mi sembrava giusto sì la mia domanda è sulla scelta all'interno del film di non mostrare i baci vedo che ho visto nelle scene che diventava buio poi ovviamente il libro che compare più volte all'interno del film e volevo sapere qualcosa su questa scelta il libro si il libro tornerà ai baci ah bravo che ad alcuni sfugge il titolo io credo che sono simboli che uno semina poi il messaggio una tesi precisa non c'è il messaggio sta i messaggi li crea il pubblico il messaggio di un'opera si creano in quella corrispondenza che si instaura se si instaura tra l'opera e il pubblico e penso che per quanto mi riguarda Enea combatte per frequenta anche ambienti corrotti ma da qualche parte è mosso da uno slancio da una purezza incorruttibile e quindi combatte per vive per lo meno non combatte vive per per raggiungere una dimensione della vita più 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 vera più più autentica e quindi il mondo che eredita non è non non è degno di di vedere la cosa più intima che esiste che sono i baci ed è necessario il loro sacrificio per perché baci ritornino questo era un po' so l'idea che mi ispirava ma ripeto ognuno sceglie la sua bene ne faccio un'altra io visto che prendila come una cosa positiva cioè nel senso non è una critica però ti voglio domandare questa cosa mi sembra in tanti momenti del film di essere catapultato all'interno di film di un altro regista italiano Sorrentino e soprattutto in tipo nella grande bellezza ma ancora di più forse in loro non è una domanda è una vorrei sapere da parte tua se c'è questo pensiero per questa Roma questa droga tutto questo ma droga non droga forse più come drogata sì no droga sì quello ma sicuramente ma per me sono film molto diversi con la grande bellezza poi magari hanno in comune il fatto che entrambi i film non vogliono a tutti i costi imporre un messaggio hanno una liquidità simile però il punto di vista sulle cose qui è di un trentenne lì era di un 65enne quindi il senso di nostalgia inevitabilmente è diverso gli anziani hanno una nostalgia verso il passato i giovani hanno una nostalgia verso il futuro come se il futuro che lentamente diventa presente non è all'altezza delle due ambizioni quindi da questo punto di vista poi sì insomma il cinema è sempre interconnesso magari guardi Sorrentino e dici visto la grande bellezza mi ricorda la dolce vita quindi sono cose sono cose naturali ed è bello se se dei film comunicano tra loro però poi Paolo è un regista che io stimo moltissimo c'è uno che sa mischiare l'alto e il basso come pochi però questa è una storia che veramente era l'ho ricercata costantemente dentro me stesso senza reference poi se uno vede una festa con Roma sullo sfondo e pensa a Sorrentino lì è stato bravo Paolo a come dire proprio a creare un immaginario esatto per cui uno pensa a quello hai sempre pensato a te come protagonista o a te come protagonista no no sempre a me a chi si fila però è bella sta cosa di Roma mi raggancio alla domanda che avevi fatto tu c'è Roma c'è tutta Roma e un po' forse l'idea anche di questa romanità in tante in tante sfaccettature una cosa adesso che vabbè fuori onda ci hai detto così a cena la condividiamo hai detto sto lavorando con un altro progetto sicuramente non sarà ambientato a Roma perché sento di averla sfruttata in qualche modo ti direi forse l'hai anche raccontata cioè l'hai raccontata l'hai sintetizzata in tutti forse i suoi punti di vista nel suo caos in tutti i punti di vista che per me hanno forza evocativa perché credo che poi alla fine dentro questa Roma e dentro questa avventura di questi ragazzi può sembrare l'Italia questa Roma e i locali che i ristoranti i circoli che ne ha frequentato possono essere l'Italia però il suo slancio vitale no quella roba quel tentativo di vivere una vita avventurosa che che sia lontano una vita che sia lontana da quel senso di mal di pancia che uno aveva a scuola e che assomigli invece a quella a quella ebrezza che provavi a ricreazione questa roba qua riguarda tutti i giorni di qualsiasi quartiere e io quando ero piccolo mi ricordo andavo a scuola c'avevo un po' l'ansia non mi andavo sveglia presto e dicevo quando voglio che la mia vita sarà l'opposto di questa sensazione e io l'opposto all'epoca era la ricreazione e giocavo a pallone quindi ho detto fatti due più e tu hai detto ah mi sai devo giocare a pallone allora devo fare il calciatore però non ero all'altezza no mi chiedevo nel tuo processo creativo se una storia la immagini subito come film oppure la immagini come libro oppure se ci sono delle storie che rimarranno sempre libri o altre come gli iperbori oppure hai già pensato a un film qualcosa del genere no quando scrivo un film penso subito al film sì sì sono proprio approcci diversi e anche gli iperbori pensavo alla pensavo alla al libro volevo scrivere un libro quella anzi poi magari il flusso di scrittura è lo stesso mi ha portato anche a scrivere Enea però lì volevo scrivere un libro e se mai dovessi fare una serie sugli iperbori dovrò riscriverla capito senti Pietro ah lassù c'è ancora una domanda aspetta che ti facciamo passaggio di microfono io ho notato anche nelle altre sale a Udine a Gorizia un sacco di gente con la mascherina qui è rimasta la mascherina qualcuno nostalgico qualche io volevo chiederti a livello proprio di regia hai trovato maggiore difficoltà nel dirigere i predatori oppure Enea cioè magari nel primo film essendo la tua opera prima sentivi maggiore pressione rispetto ad Enea qual è stata la tua diciamo esperienza e cosa ti è piaciuto dirigere e recitare di più sei predatorio Enea ovviamente se hai una preferenza ecco ma sono due momenti diversi della vita due cose due passaggi irripetibili perché un'opera prima non la puoi fare due volte è un film che che cristallizza la tua gioventù non lo puoi fare due volte da giovane e e poi no sulla pressione in realtà uno ha meno pressione quando fa l'opera prima perché ancora non hai stabilito un parametro quindi puoi permetterti un po' tutto cioè il è più facile sorprendere gli altri se non ti conoscono poi una volta che li abitui bene con un'ottima opera prima diventa complicato però ad un certo punto quando mi sono convinto che questa era la storia che volevo raccontare l'ho presa come una missione e quindi anche la responsabilità è venuta meno cioè dovevo farlo e basta non è che non è che potevo scegliere no no a quel punto era una missione c'era anche un'altra parte della domanda ma la sono scordata aspetta che mi sfugge anche a me allora abbiamo risposto tu poi eri partito con un'opera prima tranquilla Davide Donatella Naso d'Argento il mio regista insomma sei già partito molto bene però rispetto anche a questa questa appunto tua opera seconda e quella con l'opera prima I Predatori dopo solo i due film in realtà già si parla di te come un autore insomma ho letto moltissime recensioni moltissimi critici insomma che hanno già diciamo individuato una tua linea una tua linea stilistica e ti chiedo tu ti ritrovi in questo cioè o vuoi ancora appunto sperimentare o pensi già di aver trovato diciamo una tua linea che poi vuoi vuoi continuare con i tuoi film o è ancora un mondo aperto in fondo hai 30 anni no io penso che per fare bene le cose devi di volta in volta darti e quindi sacrificarti e quindi non sentirti arrivato mascherina mascherina guarda che non ti perdona niente il pubblico di Cinema Zeo cioè sono vendicativi per Malusi e quindi mi scordo no era dicevi come autore ah come autore certo no penso che è importante darsi a ogni film e diciamo esatto no no penso che poi bisogna ogni volta per fare bene le cose bisogna darsi e sacrificare cioè devi sempre sacrificare qualcosa quindi ogni volta devi devi ritrovarti no davanti a a una strada che non conosci ma questo questo aspetto riguarda tutti anche gli autori più anziani se vogliono conservare una loro forza a prescindere dal punto di vista che hanno devono devono rinnovarsi dentro a prescindere dallo stile no però devono sempre di volta in volta avere una un punto di vista fresco sulle cose se no se uno se uno se se il punto di vista che proponi è sempre lo stesso diventa diventa scontato diventa una tesi detto questo quindi non ci puoi dire niente sul progetto che hai a cui stai diciamo lavorando ok sappiamo che non sarà ambientato a Roma questo se va a Sandir senti Pietro grazie davvero hai fatto una giornata lunghissima e ti aspettano tutta una serie di altre presentazioni di incontri ma a proposito di darsi come al solito vogliamo anche noi darti qualcosa grazie piccolo spoiler nella borsa di Pietro ci sta anche lo spazzolino così almeno almeno il Vicentino almeno che gli rode un po' che è la cosa no anzi grazie che mi hai che hai preservato la mia igiene intima e orale e dopo che ti sarai lavato i denti potrai tornare da noi quando vuoi perché con questa tessera onoraria di Cinema Zero la Cinema Zero Frank Hard così vogliamo simbolicamente accoglierti nella nostra famiglia insomma e darti diciamo il pass per venire a trovarci quando vuoi naturalmente insomma con i tuoi film quindi grazie davvero a Pietro Castellito grazie a tutti voi grazie a tutti